eccoci qua cari amici vai renato ciao barber day 2022 da borgo con le nostre carissime amiche buongiorno dal friuli ciao dal friuli ecco qua buongiorno sono la dani da treviso bravissima ciao la tigna star da vicenza e niente le ringraziamo di cuore e viva il barber day ecco qua e vieni vieni renato vai qua la pastesca diretta accogli l'attimo qua aspetta un attimo qua aspetta un attimo regola ecco la diretta con il nostro carissimo amico massimo ciao massimo che ringraziamo di cuore guardate amici è da inchinarsi davanti a questa vettura credetemi amici è da inchinarsi abbiamo il modellino ma a vederla dal vero marvin è qualcosa di di chi anno è questa ce la fai 73 73 eccola qua questa esattamente è un alfa julia 2006 vitti junior 2006 spettacolare è bellissimo credimi marvin grazie caro amico spettacolare se lo fai andare via così veloce non ci apri neanche il motore insomma ragazzi c'è max e tutti gli amici appassionati di alfa romeo è tornato è l'abbiamo fermato abbiamo tantissimi appassionati di alfa romeo sul tuo canale quindi renato non te lo dicevo qua mi facevi andare via intervieni la diretta guarda marvin è spettacolare guarda marvin appassionati appassionati di alfa romeo lo dedico un po tutti gli amici dell'alfa romeo a questo punto se ci dai così un tocco di sound ecco qua in diretta e dopo dai ti lasciamo tranquillo e dopo ti lasciamo andare guarda qua caro max è la diretta e marvin gt junior eh guarda qua 1.600 eh senti senti marvin e cari amiche e cari amici prepariamoci questo è un sound alfa romeo spettacolo spettacolo marvin senti che roba senti marvin eh quanti chilometri ha questa 94 mila originali sì bellissima lei era già in buono stato quando lei si bravissima grazie di tutto di cuore e complimenti ancora veramente perché è spettacolare grazie guarda qua renato insomma cogli l'attimo qua ci sarebbero ci sarebbero altre giulia qua renato e andiamo sulle giulia però qua non c'è il proprietario va bene lo stesso sì 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 vai sulle giulia approfittiamone una sfumatura qua su queste giulia loro non sono i proprietari no ecco qua come diciamo sempre peccato qua per per la targa storica te che purtroppo impugnano in occhio però vale la pena salvare le vetture queste vetture e credetemi abbiamo fatto l'angolo alfa romeo per voi è la diretta pazzesca al barber day 2022 qua nella nuova sede borgo valsugana sotto la leggera pioggiarellina a 12 gradi fantastico angolo alfa romeo eh credimi credimi vai anche sul retro veramente spettacolari queste alfa romeo ecco qua cari amici appassionati appassionati di alfa romeo saluto un po l'amico max saluto antonio da salerno saluto damis tutti gli amici che amano l'alfa romeo come alessio come lo stesso matteo roberti guarda qua mamma mia che nuova super 1300 bellissimo mamma mia ecco qua e purtroppo non abbiamo qua i proprietari che ci potevano dire qualcosa e poi abbiamo qua un'altra nuova super 1300 dicevamo peccato peccato che è stata stata ritargata ecco qua io vi ho fatto vedere un po così la sfumatura alfa romeo renato dopo tanti maggiolini dai renato il tempo è ancora vuoi andare sulla ragazza perché te no 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 ci saluta per i cari amici 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 non mancate però lui se ne va se ne va è che non fa caldo renato ragazzi ciao a tutti ciao e viva il alfa romeo viva barber day alla prossima